In corso a Caorle l'esposizione di moto d'epoca Targate Guzzi, con i modelli più importanti dagli anni 20 e 80 del Novecento, nella sede dell'ex scuola Baffile nel centro storico della città. Non solo esposizione, sono previste infatti anche conferenze a tema nella sede della mostra. La passione per le due ruote diventa anche un'occasione di beneficenza. I proventi della mostra andranno infatti devoluti al restauro della chiesetta della Madonnina dell'Angelo, uno dei simboli per eccellenza della città di Caorle. Più informazioni nel sito www.caorle.eu Insomma, un appuntamento a cui gli amanti delle due ruote proprio non possono mancare.